ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video un'altra puntatella dedicata ai vostri video e vostri orologi così ci rifacciamo gli occhi guardiamo un pochino cosa c'è cosa non c'è queste simpatiche collezioni che mi mandate che ci mandate perché poi alla fine della fiera voi utilizzate il mio canale come mezzo come strumento di comunicazione verso gli altri appassionati che stanno guardando qualche migliaia di persone guardare al video e voi state condividendo la vostra passione con altre migliaia di persone io sono solamente il tramite è lost come si suol dire colui che ospita la collezione la persona e poi fa anche qualche commento perché non posso trattenermi da giudicare devo giudicare col ditino inquisitore devo giudicare quello che è bello e quello che è brutto in base al mio gusto non prendetevela ragazzi eh qua si scherza anche con i voti si scherza no dai sempre prende tutto sul serio e stiamo a giocare è un trucco è un escamotage per vedere un po' i loro rocci alla fine della fiera i pezzi del ferro con gli ingranaggi sono quelli che ci interessano detto questo vi mostro il bellissimo orologio del giorno che oggi è il Cartier Santos orologio con il quadrante blu calibro di manifattura numeri romani tutto intorno che sembra quasi un campanile della chiesa e il bracciale spettacolare che è proprio uno di quelli ecco magari ogni tanto mi viene mi viene lo scheribizzo se avessi preso quello con la lunetta colorata no blu blu con il bracciale anche blu come un pochino più sportivo no vabbè ma però c'è sempre tempo poi un giorno per valutare no però mi piace anche quello bianco mi piace come Cartier Santos mi piacciono tutti ma non è colpa mia è colpa sua è colpa della scimietta anche qua che gli piacciono tutti 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 adesso diamo un colpetto alla barra spaziatrice così guardiamo il primo video cosa ne dite da tutto a posto tutto acceso si si sente prova prova 1 2 3 fuoco ciao davide sono mario complimenti innanzitutto per il canale ne approfitto di questo fantastico format per mostrarti la mia collezione aggiornata che ti presento sotto forma di scatti fotografici parto con l'immancabile orologio da battaglia che uso per i lavori in casa tagliare prato usare il disespigliatore e così via anziché i classici casio di shock o timex al quarzo anziché i classici timex al quarzo guarda queste fotografie queste immagini le sono talmente belle talmente fatte bene complimenti sarei un fotografo se non professionista ma insomma di quelli che hanno come hobby perché anche sto comandeschi qua che in un orologietto da pochi euro sembra veramente un una roba di lusso belle belle immagini sanno valorizzare gli orologi e anche cinturini e anche le chiavi inglesi cosa ci fai con le chiavi inglesi vabbè dai continuiamo perché è bello mi piace ho optato per un orologio meccanico per l'esattezza un Vostok comandeschi G20 40 mm a carica automatica che è un bel mix tra moderne vintage con la sua cassa dal profilo particolare il vetro plexi bombato il quadrante di piccoli secondi a ore 10 è un orologio che monta un movimento molto economico ma sorprendentemente preciso e la lancetta GMT ovviamente non è indipendente da quella delle ore ma in soldoni ruota velocità dimezzata sì ecco questo qua è GMT perché è GMT se mi segna un secondo fuso orario GMT ci abbiamo poco da no poi in realtà il vero GMT è quello che ha il calibro nel quale una lancetta indipendente può regolare bla 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 qua praticamente la lancetta GMT va a metà velocità rispetto a quella delle ore quando quella delle ore segna due quella della GMT ne segna una perché sulla ghiera ce ne sono 24 vedete come fai per calcolare il secondo fuso? ruoti la ghiera e porti il numerino che ti interessa sulla freccia GMT a quel punto lì avremo da qui in poi quell'orario del secondo fuso orario perfetto funzionale perché dobbiamo stare a dannarci l'anima con dei calibri quando con un semplice escamotage di questo tipo si ottiene un secondo fuso orario io sinceramente lo approvo glielo appoggio proprio come diceva Rocco Siffredi perché non ci vedo minus per me è perfetto così è anche economico è un orologio molto resistente che viene costruito e assemblato in tutte le sue parti in Russia e direi che per qualche costa fa il suo fa il suo bravo assieme poi ai miei tre Tudor a partire dal B3 Pro a mio gusto personale uno dei GMT più belli si ispira chiaramente all'explorer ma ne migliora alcuni aspetti tipo il fonte sulla ghiera in stile 16-55 e l'assenza della lente ciclotica l'ho preso braccialato ma trovo che stia meglio con i cinturini che fanno contrasto con la ghiera acciaio e da questo punto di vista è un gran bel strap monster quanti cinturini hai? tanti si lamentano per lo spessore ma a me piace proprio quello dato che lo rende per tool watch poi abbiamo una delle ultime referenze Tudor ovvero Black Bay Ghiera Rossa 40 mm movimento certificato Metas dimensioni e proporzioni riviste rispetto al vecchio modello ora trovo sia molto più aggraziato tanto che non sembra quasi di avere un 40 mm poi con il cinturino Jubilee è davvero comodo oltre che molto bello bello, promosso l'unica cosa che stona rispetto al precedente è la sfera dei secondi con il lollipop anziché lo snowflake classico Tudor il terzo è il Black Bay 58 già visto e rivisto quindi nomi di lungo è un bel mix tra moderno e vintage e comodissimo da portare avendo diversi analogi con il dial nero ho scelto la versione blu vediamo ora quelli che sono il mio head watch e dress watch top head watch che conosci benissimo Explorer 39 mm su cui è stato già detto di tutto e di più mentre per il dress watch ero indeciso tra il Cartier Tank o il Santos il primo un po' troppo classico il secondo un po' troppo sportivo per cui ho optato per il Santos Dumont in questa riedizione del 2019 che riprende in pratica lo stile del primo orologio da posto commissionato da Alberto Santos Dumont nel 1904 a Louis Cartier quindi è davvero un modello iconico fermo un secondo perché stavo notando gli orologi e complimenti c'è poco da dire a livello fotografico cosa ha fatto sono tutti paralleli penna, cinturini, orologi e libro sono paralleli tra loro inclinati di 45 gradi rispetto alla visuale e questo perché? perché c'è un orologio quadrato quindi l'orologio quadrato comanda e fa mettere tutte le cose in parallelo o perpendicolari e infatti quello rotondo viene appoggiato sopra un oggetto retangolare in modo da continuare a darci le forme perpendicolari bello c'è proprio gusto anche nel scegliere le inquadrature delle fotografie poi l'orologio che ti dico l'explorer 39 ce l'ho anch'io è simpatico è simpatico fa tante battute è simpatico e quel Cartier Santo Sleep quasi quasi guarda è bello non so quanto a te non è grande come il mio però è bello anche quello lì bianco così mi piace anche quello lì facciamo cambio senza che data quello lì possiamo anche fare un cambietto magari facciamo cambio un amico che a distanza di 120 anni è cambiato davvero poco a livello di design a parte le lancette che in origine erano in stile breguet e qualche altro dettaglio è un orologio che non si vede spesso anche qua sul canale rispetto un po' quello che è il Santos tradizionale ma che trovo bellissimo con il suo dial argentino è bello questa è la versione large quindi con il movimento al quarzo il meccanico è solo nella versione XL che monta un movimento di derivazione Piaget non facciamo più cambio non facciamo più cambio scherzavo scherzavo quarzo tieni i tetti diverti e ci cambi la batteria quando vuoi e andate in giro insieme e io non ce la faccio che è il top gli ho dato ma avete fregato quando vedo un Santos invece è quarzo eh no 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 abbiamo poi due diver rolex 140-060 ovvero Submariner 40 mm ghiera ceramica calibro 3135 modello del 2016 è un classicone ma da sempre uno dei miei orologi preferiti tanto che se dovessi sceglierne uno soltanto come unico orologio sceglierei sicuramente questo e poi abbiamo il suo fratellone ovvero il Sea-Dweller 126-600 scritta rossa versione commemorativa del cinquantesimo anniversario dell'omonima collezione calibro 32-35 è un orologio che ha il polso nonostante i 43 mm e il peso se ben regolato risulta davvero comodo ecco adesso anche qua in base alla fotografia gli orologi cosa non finora ci hai mostrato tre Tudor un Cartier un Explorer un Submarine orologio non ti si può dire niente anche qua però volevo fare un commentino sul stile fotografico perché siccome questi sono subacquei e guarda ci ha messo le gocce di acqua intorno a come a dargli l'idea che siano usciti dall'acqua adesso bravo bravo amico mio come si su dire dà davvero tante soddisfazioni ecco siamo Panerai che è un brand che mi ha da sempre affascinato a parte la storia i suoi orologi mi sono sempre piaciuti ma non li avevamo mai considerati per paura delle dimensioni anche io fino a quando provai un 44mm e nonostante io abbia un posto del 16,5mm lo trovai perfetto ovvio bisogna prenderlo per quel che è cioè non è un dress watch né uno speed diver certo così trovai questo PAM 111 del 2015 che incarna quello che secondo me è il Panerai ottimale quindi cassa luminar dispositivo 4G corona 46-12 e piccoli secondi questo modello monta un calibro OP11 certificato COSC che non è nient'altro che un meta 64-97 a 21.600 alternanze e regolazione a quello di cigno quindi un calibro sostanzialmente di fornitura chiudo con i miei 3 Omega a parte del Planet Ocean 39-5 calibro Omega 2008 orologio che reputo tecnico e elegante allo stesso tempo considerate le specifiche tecniche cioè 600 metri con un valvolo a elio e le proporzioni contenute che lo rendono comodo e indossabile in qualsiasi contesto oltre che molto chiccoso con la sua vera in liquid metal è un orologio che fa la sua figura sia in spiaggia che sotto una camicia passiamo poi a un Omega che conosci molto bene cioè il Seamaster Diver a 300 metri non di lungo però con il centurione rosso c'entra una cipra diciamoci la verità siamo onesti cerchiamo di essere onesti vabbè te ormai non ne puoi più di orologi belli con i bracciali e ti devi inventare qualcosa capisco che però rosso non si può vedere guardo anche lì l'Omega 300 tipo quello che avevo io io non avevo questo perché non aveva i numerini così 0, 1, 2, 3 questo qua è un'altra versione la sfera delle ore la vedete che scompare io c'ho questa fissa qua queste sfere qua così metalliche che scompaiono in questo momento quella delle ore sta scomparendo te vedi quel triangolino lì ad ore sulla freccia la freccia sulla sulla sfera delle ore e a seconda del colpo d'occhio quella lì si confonde con gli indici e non ci capisci niente non capisci che ora è ora in questo caso quella dei minuti la stai vedendo perché il riflesso ti permette di vederla ma altrimenti ci sono situazioni nelle quali nessuna delle due si vede e si vede solo la sfera dei secondi che l'hanno fatta bella bianca potente si vede solo quella te colpo d'occhio prendi quella per l'orario capito è per quello che ho venduto lungo perché gli amici del canale lo conoscono benissimo mi soffermo solo sul bracciale perché ho preso braccialato ma seppur fatto bene e molto comodo trovo che il bracciale di questo simaster non renda giustizia all'orologio ma smettila dal punto di vista stilistico motivo per cui lo uso con cinturini vari a partire dal classico in tauchu al nato o a questo in pelle rosso che ha il suo perché chiudo con quello che reputo l'orologio forse più bello della mia collezione ovvero Omega Simaster 300 Spectre Limited Edition presentato nel 2015 in occasione dell'uscita in sala dell'omonimo film in una versione limitata a 7.700 pezzi di mondo ha come base il tuo Simaster che avevi e di cui feci la recensione e si differenzia per il quadrante con il logo Omega maggiorato apposta del numero 12 inserto gear con scala delle 12 ore la lancetta secondo l'Hollipop e il bracciale interamente satinato il carbro è sempre l'Omega 8004 con riserva di carica di 60 ore Davide è tutto ti ringrazio per lo spazio in caso pubblicherai il video un saluto a te e a tutti gli amici del canale un salutone love 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 complimenti per gli orologi e per la collezione perché sono tutti orologi che vorrei avere anch'io al di là del fatto che magari uno magari no quell'altro sì forse il Cartier Santos è al quarzo eh no poi in realtà in una collezione così di 12 pezzi giganteschi ci sta anche avere il Santos al quarzo per avere qualcosa di diverso e di particolare cioè guarda poco fin dove arrivo 9 ti do 9 perché è veramente una di quelle che mi piacciono di più come collezione 3 Omega 3 Tudor i Rolexini il Panerai il Santos niente da dire complimenti e anche per le immagini per come ce li hai presentati oh finalmente uno che parla un po' cioè spigliato normale uno deve parlare normale non è che deve parlare deve essere Pippo Vaudo ma parlare normale lui ha fatto un'esposizione che ci ha portato all'interno della sua collezione e ci è piaciuta bravo allora gli spiace solo che non hai altri orologi da mandare per fare un altro video perché sarei stato a guardarne anche un altro bravo bravo prossimo video ciao Davide ciao Stefano da Treviso ti mando questo nuovo video che aggiorna quello che ti avevo mandato credo un paio di anni fa dato che diversi orologi sono usciti dalla mia collezione nessuno c'è altri ma c'è in particolare inizio con questo che come vedi è un Seiko 5 ha la particolarità da quello che mi risulta delle mie ricerche di essere un modello destinato al mercato giapponese e non lo so tra l'altro si differenzia molto da molti modelli in circolazione che hanno la corona di carica alle 4 invece che alle 3 come questo quadrante molto pulito non sempre molto leggibile ma io trovo nella sua semplicità raffinato elegante la misura è la classica quella da 37 mm e gli ho abbinato questo cinturino questo bracciale scusami maglia milanese che a mio parere bene si raccorda con l'orologio passiamo ora al successivo che è un orologio che è entrato recentemente nella mia collezione e in realtà ha sostituito il precedente identico di 38 mm che forse effettivamente per un khaki field rimaneva più fedele ai modelli originali i field watches della seconda guerra mondiale eccetera però questo mi dava qualcosa di più a livello di piacevolezza nell'indossarlo perché comunque questa cassa rimane molto poco invasiva sul polso ha questo spessore molto molto contenuto come puoi vedere manual pochi millimetri e mantiene tutto il suo fascino originale pur riducendo la sua per così dire continuità con l'immagine dei field watches che normalmente sono di dimensioni più contenute sempre a carica manuale stesso identico movimento cassa micro sabbiata eccetera molto portabile ultra sottile li ho abbinato per poterlo utilizzare anche in condizioni meno sportive questo cinturino in cuoio con una fibra originale Hamilton molto soddisfatto direi meno male ora questo Seiko 5 GMT ancora nella sua configurazione estiva con questo cinturino in gomma non originale Seiko chiaramente che però è andato a sostituire il bracciale stile Jubilee di buona fattura che dota attualmente l'orologio quello che mi è piaciuto è questa ghiera che con un suo inserto in vetro va a coprire un inserto che come puoi vedere anche da queste immagini può diventare tutto nero a seconda delle condizioni di illuminazione non sapevo questo simpatico orologio che aggiunge questa funzione totalmente per me inutile del GMT ma che comunque ha un suo fascino lo uso abbastanza spesso è affabile è affabile bella casa si ci piace ora ti faccio vedere un diver di grande presenza è sempre stato da quando è uscito l'orologio dei miei sogni e per acquistarlo mi sono privato di altri orologi tra i quali un paio di Rolex un Submariner e un Datejust questo è indubbiamente un orologio che alcuni dicono non si può sapere io invece lo porto con un'estrema disinvoltura in tante città questo sta ad indicare la differenza di gusti e di inclinazioni di ognuno di noi chiaramente a me non piace altro così però deve essere così perché è uno di quelli che va nelle forze delle Marianne sto qua come impermeabilità è il concetto che ci piace un orologio che sa resistere alle elevatissime pressioni ci piace avere sul polso anche se ci laviamo le mani e basta perché altrimenti basterebbe un orologio da 50 metri questo poi è venduto anche due un Submariner è un Datejust per acquistare questo cioè vuol dire che proprio l'hai voluto con tutte le tue forze perché non è che l'hai preso in sovra più beh avevo qualche migliaia di euro che mi avanzavano cosa compro questo no te ne sei venduti due per prendere questo quindi mi rende felice perché te sei felice di aver comprato questo orologio però volevo semplicemente aprire la parezza per dire come siamo differenti uno dall'altro poi me ne accorgo anche in altre situazioni dove io cerco di non portare sul canale a recensire un orologio verde giallo rosa viola dai sì lo faccio però sicuramente non piacerà nessuno come non piaceva a me no se a me non mi piace e gli altri e vanno mati lo vedo poi nei commenti quindi insomma anche non fasciarsi troppo la testa sul pensare che i propri gusti siano sempre i migliori relativamente parlando soggettivamente parlando i miei gusti sono i migliori perché altrimenti non sarebbero miei cioè fammi difendere con la bandiera i miei gusti però capisco che in realtà non è così situazioni è chiaro che è un orologio che è destinato ad un uso prettamente professionale e la cosa che mi è piaciuta di questo pezzo è che è veramente poco diffuso rispetto ai classici Sub GMT Explorer eccetera i gusti sono gusti per carità ma piace tanto proprio a proposito di questo discorso che non è tanto inflazionato è anche uno di quei di parametri che mi ha portato a scegliere lo Yacht Master cioè non è tanto inflazionato avrei potuto prendere il Submariner con quei soldi lì e l'avrei potuto prendere sì però è troppo troppo visto e rivisto ce l'hanno in tanti anche che non sono appassionati che solamente per ostentare e a me già quello me lo fa andare giù quindi ho preferito prendere qualcosa di meno conosciuto meno visibile ma anche più bello a pari il mio con la ghiera in platino è roba è roba da chic è roba da chic e te hai fatto lo stesso ragionamento su questo simpaticissimo Dipsy eccolo qua eh vabbè abbiamo visto una scultura tecnologica eh già non parliamo poi di questo quadrante strepitoso che evidentemente passa dall'azzurro al blu a seconda delle condizioni di illuminazione favoloso direi favoloso mi piacciono molto poi anche gli orologi vintage preferibilmente degli anni settanta o fine anni sessanta ho alcuni pezzi tra i quali Longines Girard Peregaux Vulcan che ti ho già illustrato nel video precedente ora ho molto piacere nel farti vedere questo Citizen Seven Star V2 che veramente non ne ho mai visti più di tanti neanche sul web è un orologio che apparteneva a mio papà e che è automatico e tra l'altro questa dicitura Seven Star V2 l'ho vista su altre forme di cassa questo fa 37 mm è un calibro automatico e ha una bellissima cassa molto affusolata alla quale ho abbinato un cinturino nato in quanto il vecchio cinturino che aveva precedentemente era ormai molto consunto va bene consunto molto carino quadrante nero tendente all'antracite antracite doppia data anzi datario di giorno della settimana e data del mese bravo simpatico è simpatico vetro minerale vetro minerale e dai e adesso per finire quella che secondo me è la vera chicca della mia collezione raccolta dai eccolo qua un Nevada Grand Chen Super Antarctic 369 te garbo questo è in una configurazione con il quadrante marrone definito da loro tropic anche per l'invecchiamento delle sfere degli indici che stanno a simulare appunto il passare del tempo e l'effetto appunto della ossidazione sul quadrante molto fedele al modello originale Super Antarctic della Nevada quando ancora si chiamava Croton modello che fu creato negli anni 50 e andò ad accompagnare i partecipanti della spedizione Deep Freeze One al Polo Sud nel 55 eccolo qua questo bracciale in chicchi di riso è fenomenale molto comodo molto morbido ha una chiusura di sicurezza a doppio tasto quanti fuori linea mamma mia molto bella anche la finitura del londello questo medaglione che va in oro a commemorare la spedizione di cui parlavamo poco fa la cassa misura 38 millimetri per un lag to lag di 45 corona vite impermeabilità 10 atmosfere movimento soprod 28.800 alternanze ora è un gioiellino molto molto comodo da portare al porso la cassa è anche come avrei visto piuttosto sottile eccola qua corona logata nivada un bel pezzo secondo me e una cosa interessante che ho letto su un blog in cui si dice che questa configurazione con il 369 è addirittura anteriore a quella che è stata presentata nel rolex explorer 1016 e che daterebbe un momento successivo questa cosa mi ha particolarmente inorgoglito no dai sto scherzando però è una cosa interessante da sapersi ecco qua con questo ho finito bravo ti ringrazio ti saluto un abbraccio e sei un grande continua così grazie ciao 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 non mi addentro in queste diatribe qua qua cosa è nato prima l'uovo la gallina l'explorer questo qua è il primo orologio con la ghiera girevole primo subacqua il primo cronografo automatico basta con tutte queste gare stabilire chi è stato il primo magari anche di un giorno o di una settimana significa se uno è arrivato prima di una settimana o dopo significa che la tecnologia era già la portata di tutte quelle case lì che c'erano altrimenti ad un certo punto dipende se uno ha chiuso la porta prima e si è dimenticato la luce accesa quindi non mi interessa non sto a fare queste garete qua che è arrivato prima dopo perché poi non ci se ne esce arriva sempre quello che se ne sa una di più e dice no ma perché nel 1954 a quell'ora quell'altro c'aveva già la fotografia e quell'altro invece c'aveva il disegno la fotografia batte il disegno quindi non mi addentro certo che la prima cosa che ti viene in mente a guardare quel nivada lì è l'explorer poi in realtà come è andata come non è andata non lo so a giorno d'oggi con quella forma lì il più famoso è l'explorer di Rolex c'è poco da stare a girarci intorno quindi quando uno viene gli viene in mente quell'altro detto questo non è che significa che è da denigrare gli assomiglia c'è qualche tocco la cassa è differente il bracciale è differente anche le sfere volendo però no quello che invece mi sorprende è la cura dei dettagli di quell'ora già lì di come è ben fatto è il fondello vedevo anche il bracciale vedevo la cassa la corone tutto fatto bene veramente e a un certo punto mi viene da pensare come certi brand più un brand è sconosciuto cioè sconosciuto meno famoso è e più tende a curare magari i dettagli piuttosto che prendi un Bulova entry level una citizen entry level loro tendono proprio a fare l'orologio e via così poi viene fuori bello robusto tutto quello che vuoi ma non è che curano i dettagli ma non è che curano i dettagli un marchio come Bulova o come Citizen o Timex ad esempio che sono marchi giganteschi in realtà poi dopo o ci mettono il calibro 8000 nemmeno quello 9000 cioè si tirano un po' indietro invece questi marchi qua meno famosi sono insomma più dettaglio ci mettono la tua collezione gli do un 8 perché è valida ci sono tutti i belli orologi che adesso non mi ricordo più perché mi sono messo a parlare a discutere che è il Tonkaki il Seiko 5 il Dipsili il Sitisino il Nevada un 7 e mezzo 7 e mezzo ma non ce lo alghiamo troppo 7 e mezzo 7 e mezzo anche troppo comunque si tutti i belli orologi ottima esposizione magari un po' prolissa per ogni orologio se ti sei dilugato però si vede che volevi esternare condividere con noi le tue sensazioni ebbene hai fatto prossimo video ciao Davide per me anche subito che sono un appassionato del vintage come puoi ben vedere ebbè di film di azione e di ce l'ho anch'io quel telefono lì fermi tutti ce l'ho anch'io guardate più o meno ce l'ho anch'io eh questo qua me l'ha regato il padre di Piero ah grazie Giovanni eccolo guarda questo vintage vintage e di film ovviamente di guerra allora iniziamo subito con la collezione vai G-Sho è il caso DW290 non lo so ma intendo io non si trova ancora tranquillamente ed è un quarzo molto simpatico come dici te simpaticissimo e e questo è essenzialmente frutto della mia passione per Mission Impossible bravo ho promesso di fare un bel viaggio e di conseguenza questo bellissimo swatch New York che mi sono promesso di averlo comprato per ricordarmi che prima o poi andrò a fare un bel viaggettino l'ho anche usato però ovviamente ci tengo a tenerlo fino a quando non farò questo viaggio bravo sono un appassionato di mare quindi mi piace anche il mare mi piacciono le avventure come si può ben capire anche della mia della mia eccolo bello verso i film di azione quindi anche subacquea subacquea quindi tra comprando vendendo i vari ProMaster i vari i vari Seiko poi ho deciso di entrare nel mercato svizzero con questo Longin Ido Conquest da 39 mm un orologio serio sinceramente mi piace molto mi piace molto il blu non mi piace molto la maglia lucida al centro questa è la versione in alluminio devo dire che va molto molto bene è fermo quindi non ti spaventare l'orologio funziona benissimo ora dormo tranquillo e poi come non farci mancare questo orologio fantastico questo è quello con la spirale libera quindi senza raccata di regolazione Hamilton Caki 38 non poteva mancare ovviamente a un appassionato della seconda guerra mondiale anche di storia certo un po' richiama quel filone lì ero tentato nel comprare la versione meccanica però nonostante le ore di riserva siano abbastanza abbondanti devo ammettere che la versione automatica mi piace sicuramente eh certo so che sono appassionato di Longin Longin quindi non solo il Droconquest ma anche un regalino di mio nonno vabbè bellino tutto d'oro questo è ovviamente con la sua fibietta originale è un original quart ovviamente di fine anni 80 una forma anche di oserei dire anche di forma scommetto che è una cassa nazionale scommetto così è un ricordo a occhio anche se non ti piacciono i numeri romani eh insomma daccelo qua e adesso mi tolgo un attimo dal polso il mio cos'è? questo invece non è stato scambiato non è stato venduto insomma non è stato ovviamente bistrattato a destra e a sinistra tra acquisti e vendita ovviamente c'è lui è un 34 mm piccolino un topino che viaggia tra la banca e ovviamente me al polso si vede che è stato usato nel 2018 veramente un grande classico un grande orologio ho cercato di concentrare quello che sono le mie passioni eccetera in pochissimi orologi proprio perché ci tengo a utilizzarli il più possibile e non lasciarli nelle cassette questa è una mia idea io ti saluto ti faccio i complimenti per il tuo canale che va benissimo vedo e grazie della compagnia che ci fai sempre un abbraccio love love grazie a te per aver mandato il video e aver partecipato a questa simpatica ed affabile rubrica riesci a concentrare la tua passione in pochi orologi in modo da indossarli io non ci riesco io sinceramente non ci riesco per me il pensiero di averli anche se non li sto indossando ma di averli lì da parte è fondamentale per farmi stare bene proprio per farmi sentire a posto con me stesso e con questo simpatico hobby voglio dire altrimenti perché uno collezionerebbe i long jean vintage è logico che a un certo punto diventeranno tantissimi tantissimi che è impossibile anche indossarli un'ora al giorno non indosseresti tutti però a me mi piace avere lì nella scatola guardarli guardare l'anno guardarli tutti insieme ogni tanto magari ne indossi uno però anche quando non li indossi sai che sono lì che ti aspettano che se tu volessi potresti farlo già questo mi dà soddisfazione è uguale con gli orologi moderni è logico che poi si va anche a periodo a un certo punto decido magari di indossare quelli più sportivi d'estate proprio per fare un utilizzo intensivo in acqua in condizioni un po' più gravose e quelli un pochino più classici magari ad autunno d'inverno senza però poi rinunciare a fare anche qualche sgarro alla regola però almeno così riesco un po' a dare un po' di priorità a farli un po' salire al polso uno dopo l'altro però anche se qualcuno poi rimane indietro faccio un esempio se mi dovesse rimanere indietro il mio Omega Deville con il bracciale armadillo tutto lucido cosa vuol dire lo devo vendere perché lo indosso meno degli altri ma non ci penso nemmeno ma me lo tengo lì e solamente il pensiero sai quando ti vengono i pallini così con il fumetto qua che ci pensi all'Omega Deville se così ci pensi e dici io però ce l'ho ce l'ho di là quando voglio lo prendo boh mi basta quello se non ce l'avessi come con non ho più il rado golden orso il planet ocean di Omega e quando li vedo puoi passare dico mi viene la bavetta qua a lei gli si sgranano gli occhi va in tachicardia e cosa facciamo li andiamo a ricomprare poi magari a più di quanto li abbiamo venduti perché poi aumentano come al solito nel tempo se l'orizzonte temporale è lungo le cose aumentano è poco ma sicuro non è investimento non è speculazione ma è aumentare normale delle cose quindi no io finché posso me li tengo tutti e accumulo 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 certo anche quando vado in negozio dall'amico Giacomo che c'ha gli usati a volte vedo lì c'era uno a buon prezzo c'era l'Omega Speedmaster Triple Date quello lì era bellino mi sarebbe piaciuto prenderlo ma cosa faccio posso mica prendere un orologio a settimana fortunatamente c'è questo che mi ferma altrimenti sarei onnivoro anche solo per averli fermi bloccati detto questo la tua collezione è simpaticamente simpatica non mi ricordo già più cosa c'era è uno Swatch un Casione un Nogini Hydro Conquest super usato un Hamilton Kaki Field un Quarzone e un Rolexino si dà un 6 e mezzo 6 e mezzo 6,5 te li godrai anche tutti ma alla fine della fiera sono 4 quelli indossabilissimi il Rolex l'Hydro Conquest il abbiamo detto l'Hamilton Kaki Field e basta sono 3 non sono nemmeno 4 l'Hydro Conquest Longin Hamilton Kaki Field e Rolex 3 ce n'hai 6 e mezzo anche troppo 3 con 3 orologi dovevo andare a giorno d'oggi con 3 orologi non si va da nessuna parte uno parte per andare a fare la revisione te ne rimangono 2 magari uno non è adatto per quell'occasione te ne rimane uno io non saprei cioè io veramente mi mancherebbe la terra sotto i piedi con 3 orologi veramente non saprei dove battere la testa probabilmente la scimmietta andrebbe in coma etilico proprio forte di bere no beve perché per dimenticare lei beve per dimenticare per dimenticare che non hai abbastanza orologi questo è grave non vogliamo mica uccidere la scimmietta non vogliamo farla stare male lei deve venire su florida e contenta prossimo video va le cazzate le viandette ciao davide ciao complimenti innanzitutto per il canale per la professionalità che riesci a trasmettere in ogni tuo video però professionalità po' ora che ho fatto tutta la sparata sulla scimmietta e le cavolate professionalità questa sì che è professionalità prendono il premio per la professionalità premio dell'anno per la professionalità da biella e biella andiamo a vedere poi è proprio caso dei tuoi video che la scimmietta che porto ogni giorno sulle spalle è ingrassata furia di mangiare noccioline e mi ha causato un certo mal di schiena da un po' di giorni a questa parte vabbè stronzate a parte passo direttamente alla collezione e partirei con i quarzi in particolare con questo simpatico tasietto affabile affabile come me ti mostro poi questo festina che purtroppo da quando l'ho acquistato ho teso a indussare molto poco sarà per il brand che non mi trasmette nulla per lo spessore forse un po' eccessivo dato il tipo di orologio è fatto che un quarzo però non so non lo ricomprerei sì poi fa specie sinceramente vedere un orologio al quarto con i piccoli secondi ad ore 6 come volere emulare le ruote che portano c'è il motorino che ha messo lì per far finta che hai secondi a ore 6 a prezzo di più ecco a prezzo di più un quarzo come il G-Shock o come il primo che hai fatto vedere il casietto lì un quarzo che nasce come quarzo perché vuole essere un quarzo senti che bella poesia che ho detto oppure come ad esempio quelli degli anni 70 80 che sono nati in quel periodo lì i quarzi e loro hanno tutto il senso di esistere di dimostrare di rappresentare il periodo nel quale sono nati quelli a giorno che ci sono a giorno d'oggi di quarzi secondo me o hanno qualcosa di prestigioso di particolare di sovranaturale freddi un po' Gran Seiko al quarzo ad esempio oppure il VHP di Longines no delle particolarità quelli di Citizen che hanno che scarta di un secondo all'anno queste particolarità qua oppure proprio economici da battaglia come un Timex al quarzo quelli che ho io quando invece vai a prendere un orologio così classico elegante dalle fatture conformiste e poi lo prendi al quarzo secondo me mi si spegne un po' l'orologio cioè non perde il senso di esistere quell'orologio lì sono complicato la vita nelle spiegazioni però spero abbiate capito cosa intendevo poi ci sono questi due due Seiko vintage al quarzo questi acquistati a un mercatino per una miseria e sono molto soddisfatto del loro acquisto anche perché oltre a essere credo coevi in ogni loro componente questo non te lo so dire sono incredibilmente precisi oltre che sottili questo secondo me evidenzia quanto una volta pure in fasce di prezzo molto basse riuscissero a mantenere degli standard per certi versi superiori rispetto a quelli di oggi questi qua sono belli hanno senso di esistere beh bravo faccio vedere poi gli orologi meccanici che ho partendo con questo Seiko 5 ah no scusa prima l'ultimo quarzo che ho è questo tesso PRS 35 mm quadrante blu molto molto bello con 3B rifiniture eccezionali per il prezzo lo indosso spessissimo e volentieri passando poi agli orologi meccanici Seiko 5 questo qui è stato il mio primo in assoluto l'ho indossato in ogni tipo di occasione dalle più formali alle più sportive e ancora oggi a distanza di anni va che è una meraviglia sempre un altro Seiko 5 questo qua l'ho acquistato di recente in realtà ho pagato poco più di 100 euro e l'ho preso come alternativa al Seiko Sarbe 033 035 ora non mi ricordo quello col quadrante panna comunque e me lo ricorda tantissimo sia per gli indici che per il quadrante il dial in generale e per la forma della cassa molto carino poi questo qua è anche quello con la particolarità di avere tutti i vari scudetti con il logo del Seiko 5 al centro su quello nero si vede maggiormente su questo qua si vede solamente incontro luce non so se è meglio che si veda che sia sgargiante esplosivo oppure così che è un pochino più sommesso sono due cose differenti però è bello il quadrantino con tutti gli scudetti con i 5 ci piace nel suo genere è anche unico diciamo ti mostro poi questo anche un cacchi field un altro orologio precisissimo confermo quanto ho detto da tanti altri amici del canale il mio stand nel range dei 2-3 massimo 4 secondi al giorno ed è assurdo per la cifra pagata è l'orologio a cui tengo di più tant'è che ci ho fatto anche incidere la data della mia laurea triennale bravo questo orologio infatti mi è stato regalato in quell'occasione lì e non me ne saprò mai assolutamente ecco se uno è sicuro perché poi nella vita non si è mai sicuro di niente di sicuro c'è solo la morte oggi filosofia altissima se uno è proprio sicuro di tenere l'orologio per sempre è giusto che faccia queste cose qua e fare l'incisione all'interno della cerniera della clasp è una cosa a cui io non avevo quasi mai pensato non ci avevo mai pensato perché viene sempre in mente il fondello invece lì è proprio interessante perché però ti può fregare lì perché se vuoi fare il fondello ci sei legato cioè non lo puoi vendere l'orologio sei obbligato a meno che non cambi il fondello che è un po' più invece se la fai così all'interno della cerniera un giorno ti stufi e dici ah non me ne frega più niente rompo la promessa e stacchi il bracciale ce ne metti un altro ci metti un cintonino e lo vendi e quindi viene meno la tua promessa però se ci fosse se c'è fosse un orologio dedicato ad una data precisa che sei sicuro di non tenerlo personalizzarlo così e poi magari lo passi anche alla tua parole ai discendenti alla parentela al parentado per loro diventa ancora con un senso maggiore bravo è approvato dall'associazione youtuber italiana dai infine ti mostro l'acquisto più recente che è questo Citizen Fugu Fugu in edizione limitata eh che corona mamba che bello molto molto bello anche te le differenze sostanziali rispetto al promaster classico sono la corona zigrinata gli indici del quadrante il fondello che raffigura il pesce palla che in giapponese si chiama Fugu tutto diverso e il bracciale che finalmente claspa a parte riesce a essere di tutto rispetto spero che sia il promaster definitivo perché sarà tipo il quarto che acquisto e ognuno non lo so lo indosso un po' di mesi poi trovo sempre un promaster che mi piace di più e la scimmia colpisce sempre bravo vabbè a parte questo questa è la mia collezione Davide bravo dai buona fortuna per il canale e mi raccomando raggiungi presto i centomila iscritti perché te lo merito grazie troppo gentile troppo gentilissimo dai tanti quarzetti all'inizio anche il PRX 265 Caki Field Citizen Fugu sei e mezzo anche a te dai sei e mezzo anche a te siamo lì in quella situazione in cui devi ancora sviluppare un pochino di più la collezione col tempo senza fretta qualche pezzo un pochino più costoso e particolare perché costoso particolare questi qua sono orologiche più o meno abbiamo visto e rivisto anche se il fugo non è così visto e rivisto però dai sei e mezzo di più non ti posso dare abbi pazienza dai nonostante tutta la lecchinata che mi hai fatto alla fine non me la sento di darti più di sei e mezzo però sei promosso siamo tutti contenti belli i secchi i secchi quarsetti all'inizio quelli degli anni 70-80 quelli sono po' belli dice che si prendono con poco e io nella mia testolina pensavo speriamo che continui così nel senso che poi non prende la mania di collezionare i secchi a quarzo degli anni 70-80 che poi dopo salgono costano poco perché la gente non sa che hanno un certo valore storico tecnico quindi sono a quarzo secco quanto vuoi che ho detto odia dammi poco e te li prendi trovassi anche io poco poco li prenderei anch'io nonostante non li indossi perché non posso con 52.000 orologi indossarli però per averceli per dirceli anch'io capito per poi fare il video mandarlo a voi dircelo anch'io sono invidioso ciao Davide sono Giorgio Lecce e volevo innanzitutto farti complimenti per il tuo canale per i tuoi video grazie dato che ci intrattieni praticamente ogni sera con mio padre ciao padre anche lui è appassionato di orologi ci fai divertire moltissimo ehi bu allora direi di iniziare subito con uno dei miei primi orologi di quando ero bambino ero molto appassionato e sono tuttora appassionato della saga di James Bond di 007 e per la mia comunione per la mia prima comunione mi hanno regalato proprio i miei genitori questo swatch che è purtroppo a quale purtroppo ho perso la cinghia di chiusura e vabbè proprio in edizione 007 questo in particolare è stato realizzato per il film Quantum of Solace ovvero il secondo della saga di Daniel Craig ho capito è un orologio che ho usato moltissimo si può vedere anche da come si è ingiallito nel tempo che tuttora comunque funziona dovrei metterlo in funzione vediamo se prima o poi lo utilizzerò sì però si può stare un minuto su uno swatch dai su un orologio che ho ricevuto da mio nonno il regalo adesso purtroppo lui non c'è più eh spiace questo Viler Vetta sinceramente non conosco bene il marchio non sono ancora completamente sicuro diciamo del suo funzionamento perché purtroppo cosa c'entra non conosco bene il marchio e non sono sicuro del suo funzionamento non sono due cose che legano conosci bene il marchio perché sei ignorante scusa te lo dico perché Viler Vetta è un marchio storico che è tuttora presente sul mercato e fa anche degli orologi più passa il tempo più si sta anche rivalutando stanno facendo delle belle cose il suo funzionamento non lo so è a quarzo cioè due quadrantini digitali lo devi portare da un orologiaio digitale cioè non è che lo porti dall'orologio tradizionale dall'orologiaio tradizionale di paese che ti ripara le cose meccaniche gli porti quello al quarzo e ti dice uh e io cosa ti devi saldare di saldare cambiamo il calibro direttamente però vedi un po' se non funziona farlo riparare a livello affettivo importante come dici ho notato che c'è del nero qui sul display su questo display ovviamente è un quarzon e se tu mi sai dire qualcosa di più magari sono ben felice insomma di di sapere perché appunto non mi intendo moltissimo di questo marchio e appunto vorrei sapere qualcosa in più ecco scusami ma vorrei sapere qualcosa in più vai sul signor google scrivi villa ervetta storia e ti vengono fuori tutta una serie di articoli poi incroci le fonti e ti fai una culturetta cioè io non è che ti devo dare il pesce come diceva Rocco Sifreddi io ti devo dare la canna da pesca quindi ti do la canna da pesca vai fai una ricerca e studi perché villa ervetta è un marchio storico come ti ho detto prima c'è un sacco di informazioni online c'è anche il sito ufficiale al giorno d'oggi continuano a produrre gli orologi li stanno producendo sempre meglio rispetto a 10 15 20 anni fa dove magari si erano un po' persi come è successo a tanti marchi italiani e succede anche adesso come mi viene in mente Lorenz o altri che si sono persi nel pattume degli orologi da catalogo che replicano le effigie di altri orologi più famosi sono un po' persi lì villa ervetta invece è riuscita a uscire fuori dal fango e sta anche lavorando sempre meglio quindi informati il pesce io non te lo do hai capito ti do la canna da pesca passiamo poi a un altro orologio che dubito del suo funzionamento dato che purtroppo è caduto ed è un orologio che mi è stato regalato da mio padre che lui è ricevuto a sua volta dalla sua azienda come premio aziendale e nulla purtroppo gli è caduto non so non so bene come probabilmente mentre lo toglieva e successivamente è andato per far riparare il meccanismo e non gli hanno diciamo l'orlogio dove siamo stati non ha effettuato il test subacqueo quindi praticamente lui appena l'ha messo in acqua l'orologio si è fritto completamente quindi ha smesso di funzionare appunto ma da chi vai ma come ti ho detto prima non ha fatto il test di impermeabilità si è messo a friggere il tessù povero il povero tessù magari non era nemmeno impermeabilissimo però come tutte le quando si fa il test di impermeabilità non si fa a tre atmosfere perché è lì è lì che entra il punto cruciale dove puoi capire se è impermeabile o meno tante volte sento dire ma perché non fai il test a dieci atmosfere a cento metri o a venti atmosfere perché non funziona così basta farlo a tre a tre atmosfere è un momento per assurdo l'acqua entra se ti prendi l'orologio lo metti in una bacinella d'acqua con cinque dita d'acqua ecco fatto se l'orologio non è impermeabile l'acqua entra in quel momento lì proprio fa le bollicine entra l'acqua dentro perché è lì che può infiltrarsi nel momento in cui la pressione va sopra i tre bar va sopra i tre bar e le guarnizioni si schiacciano si schiaccia tutto quindi l'impermeabilità aumenta quindi se l'orologio è impermeabile fino a tre bar è impermeabile anche sopra e il limite diventa la cassa strutturale il limite strutturale quando è che smettono di funzionare poi gli orologi alle alte pressioni quando la pressione preme contro il fondello e gli fa toccare il movimento o preme contro al vetro e gli fa toccare le lancette in quei momenti lì si ferma l'orologio perché è un limite strutturale dell'orologio non è che entra l'acqua è lì poi c'è il limite distruttivo che se ti aumenti 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 l'orologio implode scoppia il vetro o a volte anche il fondello ho visto ma più raramente il primo a scoppiare il vetro è proprio il limite strutturale non è che entra l'acqua alle altissime alle alte pressioni non è che entra l'acqua esplode toccano si deforma mentre l'acqua entra all'inizio fino a tre fino a tre atmosfere e qua avete fatto la puttanata e ci avete l'orologio fritto cambia l'orologiaio chiedendo se ne valeva la pena ripararlo ci hanno detto di no che comunque conveniva più ricomprarlo nuovo piuttosto che sostituire il meccanismo purtroppo ci ero affezionato ma questo qua è un concetto che vale per tutti gli orologi che paghi poco non perché sono usa e getta loro di per sé che non si possono riparare perché a un certo punto arrivi a un punto che la mano d'opera di un essere umano e il costo del pezzo del cambio ti viene a costare di più che non prenderlo nuovo perché siamo nell'era del consumismo però io ripeto sempre il concetto che ho fatto prima io avevo comprato un imperio da 60 euro vintage poi l'avevo fatto revisionare a 100 euro cioè senza problemi chi se l'ha comprato se l'ha comprato revisionato perché poi l'ho venduto se uno ci tiene a una cosa dipende quanto ci tiene è disposto a spendere più soldi del suo valore per averla quindi se sei affezionato a questo orologio e ti senti disposto a spendere dei soldi per sistemarlo li spendi perché se te lo compri nuovo l'orologio detto che sarebbe una puttanata alla seconda perché non è un orologio che di per sé al giorno d'oggi si va a comprare con soddisfazione no ce l'hai lo tieni con soddisfazione perché c'è una storia quindi per mantenere preservare quella storia ci devi spedere dei soldi sopra dipende tutto da te quant'è la tua soglia di spesa per voler preservare un dato oggetto che può essere anche un oggetto che è in casa un pavimento una porta qualsiasi cosa a cui sei legato particolarmente essere legati a una porta è un po' difficile però no è senso mautenzione mautenzione si chiama vabbè mi sono un po' impelagato comunque siamo capiti nulla vedrò se ripararlo o meno in futuro bravo adesso passiamo alla mia collezione personale di orologi che mi sono stati regalati o che ho comprato e partiamo con vabbè lo conoscerei benissimo il criticatissimo Seiko GMT perché? un orologio che personalmente ritengo molto bello è uno che tra quelli che indosso di più molto criticato ovviamente per la non presenza della corona a vite e di palle sinceramente devo essere devo essere onesto non la trovo una grande mancanza anche perché non si tratta di un diver soprattutto non è un diver certificato e per cui diciamo non la sento una grande mancanza io comunque non l'avrei utilizzato al mare quindi sono contento di averlo e di indossarlo anche giusto anche per le uscite nel weekend specialmente passiamo poi a uno dei miei ultimi acquisti ovvero il Seiko Tartle basico standard standard un orologio che già dalla prima vista mi è piaciuto moltissimo già dalla prima vista è un orologio che adoro ha una forma della cassa spettacolare diciamo un must secondo me per chi ama Seiko tuttora in commercio secondo me a breve termineranno il commercio di questo orologio poiché il prezzo secondo me a mio parere è troppo basso per la gamma Prospex però vediamo speriamo che lo mantenga nel più tempo possibile sono contento di averlo anche perché l'ho pagato soltanto 350 diciamo che comunque come come valore l'orologio secondo me diciamo a colpo d'occhio può può valere anche il più di questo prezzo ci abbiamo fatto passiamo a un probabile chofeca alert me lo faccio da solo ma no questo si tratta di appunto uno dei primi usciti di Omega Smooth Watch adesso ne hanno fatti di tantissimi tipi che sinceramente a me fanno storcere un po' il naso questo si tratta del modello Mercury preso il day one più o meno ovviamente non ho fatto la fila che hanno fatto tutti però l'ho avuto tra i primi diciamo sono stato tra i primi acquirenti orgoglioso a questo ho cambiato il cinturino gli ho messo questo cinturino in gomma che anche se non è perfettamente dello stesso colore dell'orologio secondo me sta molto bene con con la cassa comunque un orologio che come daily watch secondo me merita viene criticato anche abbastanza gratuitamente perché comunque lo ritengo un orologio preciso e è affidabile poi passiamo al mio ultimo acquisto ovvero questo casio g-shock a batteria a batteria è normale è nulla un orologio affidabilissimo super preciso bla 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 è un casio è un g-shock ero tentato da prendere il modello solare però onestamente preferisco preferisco più la batteria ecco non non usandolo tutti i giorni comunque non mi andava insomma di lasciarlo con le fonti luminose eccetera io li tengo chiusi in questo in questo in questo box dentro del cassetto quindi insomma ho preferito questa versione a batteria è nulla mi piace moltissimo lo uso spesso l'ho usato anche al mare quest'estate a me comunque il caso come brand piace soprattutto questi nuovi insomma che sono un po' la reinterpretazione di quelli anni 80 vai meno male ti mostro probabilmente l'orlogio che ritengo il più importante della mia collezione ovvero questo 6-5 del 71 donato da mio nonno purtroppo lui non c'è più come ho già detto ci sono molto affezionato ho provato a far lucidare il quadrante che purtroppo mostra questi segni del tempo purtroppo non ci sono riusciti insomma il quadrante si ma l'hai portato dallo stesso orologiaio di prima che ti ha fatto entrare l'acqua nel tissu perché non ci sono riusciti cazzo è impedito in qualche modo si fa cosa vuol dire non ci sono riusciti sono delle macchione gigantesche non so cosa sia sembra Nutella sembra per non dire altro però perlomeno schiarirle renderle un pochino meno così orripilante perché ci sono dei quadranti che vissuti insomma ti danno l'idea di vintage di vissuto e quadranti come questo qua che ti danno l'idea di sporco lo sporco mi dà più fastidio così alla vista piuttosto che una fioritura una crepa così sembra sporco di ho deciso di tenerlo così di non sostituirlo comunque per il resto l'orologio è praticamente perfetto ci sono molto affezionato e l'orologio comunque tiene molto bene il tempo e nulla è uno è un orologio che uso nelle occasioni più speciali perché appunto è il nonno lo ritengo un pezzo importante seppur non valendo chissà che della mia collezione va bene è nulla molto bello molto bello poi facciamo partire un bel ciofeca alert per questo che è un errore di gioventù ovvero diciamo quando avevo circa 14-15 anni sempre preso dall'euforia dei film di James Bond ho preso su ebay alla modica cifra di 30 euro 30 euro questo questo omage questo chiaro omage dell'Omega Seamaster 300 di Bond ovviamente il suo usato nel film era fammi vedere il quadrante però devo dire ecco lì c'è scritto proprio Seamaster Professional 300 metri o qua si potrebbe anche aprire una piccola parentesi sulle diciture sul quadrante quando ti prendono in giro cioè diventa un giocattolo cioè essere presi in giro Corget ci scriveva sui certi orologi cronometer che cronometer è la definizione per gli orologi certificati COSC cronometer e dentro c'è il mio 8.8.000 e sul quadrante c'è scritto cronometer cioè mi stai prendendo in giro è come scrivere GT sulla panda metano e quindi te lo schiaffano faccio ti dammi i soldi che io ti prendo in giro e te li compri li compri capito e questo qua è uguale Seamaster Professional 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 di che professional di che 300 metri a questo punto io come faccio a credere che sia 300 metri se quegli altri ci scrivono COSC che non lo è ci scrivi professional che non lo è ci scrivi le bagianate che non lo sono a questo punto dubito anche sul fatto che sia 300 metri magari è 30 metri 3 metri meno 3 metri che c'entra l'acqua per depressione cioè sono anche queste le cose e poi il punto qual è questi mi scrivono così Corgeau mi scrive su certi orologi cronometer ma io non li compro più nemmeno nemmeno in Corgeau dove non c'è scritto niente dove sono chiari dove non stanno imbrogliando perché mi è imbrogliato sul primo mi sta imbrogliando su quegli altri e perché devo comprare cioè proprio è la casa quando io parlo della casa che mi prende in giro che non mi piace che mi deve piacere anche l'azienda che mi vende l'orologio è questo se tendi a prendermi in giro ma perché devo darti soldi e tu ti devi dare soldi dare soldi vorrei vedere anche gli altri marchi le diciture che hanno sul quadrante a quanto corrispondono al vero no poi alla fine va bene tralasciando il fatto che funziona ancora ho sostituito personalmente la batteria e tiene benissimo il tempo meno male poi anche questa incisione sul fondello allora sul fondello c'è scritto scusami ora mi rimando dietro perché sennò qua ci prendiamo in giro ti piace l'incisione ma te non devi guardare i disegnini come fanno alle elementari eccolo qua c'è il il fondello c'è scritto stainless steel back quindi la cassa il fondello in acciaio in acciaio inox la cassa no la cassa è in un materiale imprecisato cromata lattine di coca cola pressate e ristampate water resistant hai capito quello che dicevo prima c'è scritto water resistant cioè è water resistant non è 300 metri come c'è scritto stampigliato sul quadrante è una bagianata water resistant stainless steel c'è un cavaluccio marino fatto che sembra che l'ha fatto un bambino di tre anni atlantis è scritto mezzo storto e è fatto un affarone è fatto un affarone bravo poi anche questa incisione sul fondello che a me sinceramente piace quindi sono molto affezionato come come storia a questo orologio lo uso ogni tanto in mare chiaramente lo immergo perché immagino che non avendo coronavite praticamente 300 metri 300 metri è nulla a me a me comunque come pezzo piace gli ho sostituito il cinturino e gli ho messo questo nuovo però dai c'è anche la valvola dell'elio 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 diciamo sono contento comunque di averlo perché è un pezzo di quando ero piccolo va bene dai bene finiamo qua io ti ringrazio per la disponibilità ci sentiamo eventualmente per un prossimo aggiornamento della mia collezione ti ringrazio un saluto a tutti un saluto a tutti sono qui apposta ti aspetto qui guarda non mi muovo sei non sei non mi ricordo nemmeno gli orologi che c'hai swatch ti sono affogato un secco 5 GMT carino un bel secco tartol poi basta basta sei sei la sufficienza proprio guarda per non darti un voto più basso perché mai è guastato il sangue con quell'ultimo orologio lì che uno dovrebbe ricordati quando ero bambino va bene però insomma sei consapevole di come ti prendevano t'hanno preso in giro e ci prendono in giro cioè guarda va bene dai se te l'ho dato attendo gli sviluppi io vi ringrazio ragazzi non ho più null'altro da dire devo andare a vedere i gattini su Instagram che mi attendono quando saltano da un cagnolino all'altro che si divertono fanno queste cose io li guardo vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love musica musica Grazie a tutti